Ciao a tutti, come avrete già sentito la campagna è stata annullata per il problema al motore, sembra che ci sbarcheranno a Liverpool, quindi avremo tre giorni di navigazione, si sta trasformando in una gita turistica, però manderemo qualcosina relativo agli strumenti, come si adopera, continueremo a far vedere un po' di cose. Purtroppo è andata così, sarà la prossima, il morale non è altissimo, comunque andiamo avanti. Salutone, ciao!